Chi sono queste persone? Diplomatici, politici, spie, uomini d'affari. Tipico di un'ambasciata. Quest'abito fa schifo. Avrei dovuto metterne un altro. No, l'abito è perfetto. Sei uno schianto. E cosa più importante? Sì, naturale. Se qualcuno ti parla, tu sorridi e basta. Quindi vuoi che mi comporti con naturalezza o vuoi che sorrida? Ha il senso dell'umorismo. Solo quando me la faccio sotto. Ryan, sono contento che sia venuto. È un piacere, Sheikho, Amad. Le presento la mia assistente, Elizabeth. Non sapevo che la diplomazia americana potesse disporre di un fascino così disarmante. Il piacere è mio, Elizabeth. Signori, vi lascio al vostro ospite. A più tardi, Amad. A presto, Ryan. Mi detesta. Mi piacerebbe vedere la mia testa sul palo. Ma tu hai fatto colpo. Ne sono così in grata. Vado a stringere qualche mano. Tu trova un posto tranquillo. Sai che cosa devi fare. Ambasciatore. Ma che piacere vederla. Mi serve un posto tranquillo. Stata. Grazie a tutti. 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 Il dolore mi sta uccidendo. Grazie a tutti. Ora dobbiamo leggere i documenti. Fa presto. Non resisteremo. Non resisteremo ancora per molto. Ok, ora sta fermo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi dispiace. Mi dispiace. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Giudice a tutti. Non toccarmi. Non toccarmi. Ok, ci rendiamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.